e non eravamo capaci di accettare un rapporto non rapporto, quindi ci siamo detti, è inutile prenderci in giro, poi fare la coppia che sta sotto lo stesso tetto, anche se la cosa non funziona più, magari lo fai a 60 anni, a 30 anni è un po' presto. Però avevate una bimba piccolina, quindi immagino anche la preoccupazione. Sì, il nostro primo pensiero era lei, però io personalmente… Vi siete divisi, no? Sì, ci siamo lasciati. Col seno di poi ci saremmo dovuti lasciare forse prima, abbiamo tirato un po' troppo la corda per amore della nostra famiglia, perché io quando vado via di casa vado via sapendo di amare Francesca, non è che vado via pensando altro, però sai quando dici non c'è l'unica soluzione. Siete stati lontani, quindi, separati. Due anni pieni tutti. Sì. E so che tu avevi anche la tua famiglia che non era contentissima di… Non era contentissima prima di tutto perché mio papà è un po' all'antica, no, come papà, poi io sono l'unica figlia femmina o tre fratelli maschi, quindi per loro è stato come un femmino… Esatto. Abbiamo sbagliato noi. Quindi loro che cosa hanno visto? Che la figlia si è impazzita e ha lasciato il marito, ma non è stato così. Hocizzato. Quattro Miesco soni superiore. Parasola inαν acontecendoù succo. Mi cao è un'acqua di di vita delle famiglie, ma . Hocizzato.